come godo brutte merda brutte merda prescritti di merda quanto godo vincere in questa maniera quanto godo quanto godo fate schifo fate schifo siete peggio di noi a livello di gioco siete peggio di noi grande vittoria la vittoria più bella quest'anno la vittoria più bella contro di voi all'andata e al ritorno brutte merda ve lo meritate ve lo meritate perché invece parlare della vostra squadra di merda e invece parlare della vostra squadra di merda siccome non avete argomenti e dovete sempre rompere i coglioni noi alla juventus perché siccome non avete argomenti per parlare per dire delle cose andate sempre sulla juventus perché la juventus fa notizia la juventus qua la juventus di là poi quando c'è da giocare la partita in 11 contro 11 in campo le prendete le prendete perché fate a livello di gioco fate schifo e col benfica ne prendete quattro andate quattro ritorno spiace 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 per questa sconfitta abbiamo giocato di merda la juventus è stata bravissima ragazzi a livello di gioco stasera la juventus ha giocato benissimo ha sofferto ma ha giocato benissimo bene la difesa veramente gatti io che l'ho criticato tanto tanto ha fatto una grandissima deve migliorare tantissimo ma ha fatto una grandissima partita ha salvato un gol su lukaku da grande difensore ben anche bremer ragazzi danilo grandissimo anche danilo ma soprattutto ragazzi kostic secondo me si merita un 10 perché ha fatto un oltre al gol ha fatto un partitone assurdo polmoni a 360 gradi si merita un 10 lode laovic ha fatto un grande lavoro ha fatto un lavoro spoco un grande lavoro di sfonda per i compagni rabbio ragazzi io se rabbio non ho nulla da dire perché per me rabbio è un buonissimo giocatore e ha fatto a differenza anche oggi ha padroneggiato il centrocampo contro quel bimbo minchia di barella che sei sei un bimbo minchia del cazzo e sei insopportabile se ti pigli calci stai zitto perché il calcio non è uno sport per signorine il calcio è uno sport di contatto se ti prendi calci stai zitto stai zitto sei insopportabile bimbo minchia questo rappresenta la nazionale italiana che io non tifo questo bimbo minchia del cazzo rappresenta sto cazzo rappresenta la nazionale di calcio italiana che non mi rappresenta poi ragazzi mi sorprendo di locatelli che ha fatto una grandissima partita grandissima partita ma a livello a livello di gioco a livello di squadra io non devo criticare nulla nulla ma neanche allegri neanche allegri perché la squadra veramente fatto una grande partita è sempre stata sul pezzo dal primo fino al 96esimo minuto quindi grandi ragazzi grandi taglie tutta e guardiamo la prossima partita che sarà in casa contro il verona a noi 15 punti di meno 15 non ce ne frega un cazzo noi andiamo avanti per la nostra strada e niente ragazzi grande vittoria io godo butto i prescritti di merda e quello che vi meritate e come sempre fino alla fine e forza juventus piangini del cazzo siete degli asini siete degli asini continuate a piangere però mi dispiace per manuelina ragazzi un bacio e un saluto a manuelina anche la sua strada adesso non vale che giocamse